Amici di milan.soccer eccoci un appuntamento speciale perché si è appena conclusa la partita tra milan futuro e carpi una partita valevole per il campionato di serie c risultato finale 1 a 1 ora vi daremo tutte le indicazioni se volete invece diciamo così approfondire vi aspetto sul canale milan futuro.soccer vi lascio il link in descrizione comunque iscrivetevi anche a questo canale mettete un like al video il pollicione e attivate la campanella allora c'erano degli osservati speciali sì perché purtroppo i difetti che stiamo riscontrando nella nostra prima squadra sono alcuni clamorosi e allora bisogna andare a vedere che cosa c'è considerando che i parametri zero sono nomi che non stimolano affatto e invece in questa squadra la squadra di milan futuro ci sono alcuni giocatori che a mio modo di vedere ma è un modesto parere sono già pronti il milan scende in campo per la prima volta nella sua storia davanti al suo pubblico comunque c'erano 1295 spettatori in quel di busto arsizio formazione nava in porta a gimenez terzino destro minotti centrale insieme a bart e zaghi centrale di centrale di sinistra bozzolan terzino sinistro zero lì e sandri davanti alla difesa cuenca alla pulisic ozic il centrale talento arrivato dal bologna e che è stato schierato al posto di liberali e poi traorea alla leao e davanti punta camarda dicevo ci sono c'erano ci sono degli osservati speciali perché la pazza idea che sta diciamo così venendo in testa a mister fonseca e quella di attingere ma non i soliti nomi zeroli piuttosto che camarda piuttosto che liberali ripeto oggi era in panchina quanto piuttosto osservato speciale era gimenez io ho visto tutta la partita non so quanti di voi hanno avuto modo di vedere la partita e devo dire che per me è stato uno dei migliori in campo un giocatore molto coriaceo aggressivo veloce spinge ricorda 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 forse anche perché gli assomiglia ma ricorda un po il teo con le giuste distanze giusti termini di paragone però è un giocatore che secondo me in questo momento supera sia emerson royal che calabria un giocatore che ha dato tanto e soprattutto ci sono altri due osservati speciali uno in particolare ma lo vediamo più tardi il milan inizia bene con tra ore sulla sinistra e poi sicuramente con lo stesso gimenez che all'inizio al settimo minuto salta bene l'uomo ho scritto qui tra i miei appunti sembra il vecchio leao adesso esagerato forse emette una bellissima palla in area non ho minuto bel contropiede del milan ma adesso non vi faccio tutta la telecronaca o comunque la sintesi della cronaca perché la potrete trovare appunto sul canale milan futuro punto soccer altro osservato speciale altro osservato speciale e vos vos nel secondo tempo prende il posto di ozic che è sembrato un giocatore spento in questa partita insieme a fall e cambia cambia la partita vos andate a vedere il gol se vi va e vi posso dire che l'ha costruito lui il gol del pareggio sì perché c'è il carpi che passa in vantaggio il milan tiene decisamente la palla tiene le redini del gioco anche se poi l'esperienza di alcuni giocatori decisamente più esperti per questo campionato a volte poi fa la differenza ma ripeto quando sono entrati vos e fall beh devo dire che hanno fatto anche loro la differenza una palla perfetta per al centro dell'area si avventano tutti su camarda che viene spinto a terra ed è calcio di rigore con il calcio di rigore battuto da camarda un calcio di rigore direi storico il primo gol e il destino vuole proprio così e cioè che il primo gol del milan futuro venga fatto proprio da da cam a francesco camarda francesco camarda 1 a 1 al 95esimo davvero un clamoroso gol manca mancato di fonseca ci nega la prima vittoria sintesi che comunque diciamo porta ad una considerazione finale il pareggio è un pareggio giusto come ho detto poc'anzi il milan ha tenuto di più la palla ma poi anche loro hanno avuto le loro occasioni fonseca ci sta pensando perché il calcio mercato non è stato un calcio mercato pavlovici a parte che possa dirsi sufficiente per poter far crescere il milan dell'anno scorso per potersi migliorare allora visto e considerato che ripeto i parametri zero non sono all'altezza di farci fare il salto di qualità direi che come ho chiuso il video di stamattina milan fai come fa la juventus metti dentro questi ragazzi perché vos è veramente non so come definirlo ma fisicamente strutturalmente forte molto forte e il piede è anche molto educato quindi io ho una chance è chiaro l'ho visto solo una partita solo oggi contro il carpi giocare a san silo con 75 mila persone un derby piuttosto che insomma è cosa diversa alcuni giocatori sono davvero maturati su tutti direi bartesaghi e zero lì camarda ha avuto poche occasioni ma il milan non pur tenendo molto la palla non ha creato un numero clamoroso di palle gol però francesco si è ben mosso ritorno un attimo a gimenez perché gimenez secondo me merita una chance l'ho visto ha preso anche un'ammunizione ma una di quelle ammunizioni di chi alla fine voleva tutto e per tutto arrivare alla vittoria cioè a quella cazzimma come diciamo la gattusite no che manca molti giocatori e soprattutto quando facciamo io ho rivisto i gol che abbiamo preso col parma ho rivisto i gol che abbiamo preso con la lazio il problema non è solo di qualità il problema è anche di corsa cioè non se loro vanno sia sia calabria che emerson royal non riescono a riprendere il giocatore quantomeno gimenez ha questo tipo di capacità cioè quello di rientrare di recuperare in maniera anche convincente va bene tutto vediamo quello che succede vi aspetto sul canale milan soccer domani mattina alle 8 esce la sintesi della partita ciao